Prepararsi all'operazione Blackout. Meglio guardare in quelle rovine. Meglio dare un'occhiata a 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 quelle rovine. Conosco questa figura. Ischel, dea della luna piena. Oh, e questa è Shashel, la luna nuova. C'è un'iscrizione. Shashel. La chiave si trova oltre il suo sguardo. La chiave. Eccola. L'ingresso deve essere laggiù. Non mi resta che scendere. Ok, così dovrebbe andare. Qui, comandante Rourke. Voglio il sito sicuro ora. Quando arriva il dottor Dominguez, entriamo tutti insieme. Qui, comandante Rourke. Preparatevi tutti. Il Dottor Dominguez sta scendendo. Cavolo, devo sbrigarmi. La statua guarda verso le grove. Il Dottor Dominguez sta scendendo. La trinità da fuori. Sembra che questa grotta di solito sia sommersa. Il Dottor Dominguez sta scendendo. L'incisione su questo monolite maia è troppo rovinata per leggerla. Dovevo aspettare. Che posto è questo? No. 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 Grazie a tutti.